Buongiorno a tutti ragazzi, sono Power Pedro e bentornati in un nuovissimo video di Brawl Stars. Oggi faremo delle sopravvivenze in solo, ma prima vi voglio far vedere i miei brawler. Ho questi. Partiamo subito. Sono capitato in uno dei posti di partenza che non mi piace perché sono un po' troppo al centro. Però oggi voglio giocare molto, cioè abbastanza aggressivo perché voglio portarvi una bella partita. Ok, abbiamo già tre gemme. Poi Bull è molto forte da vicino e questo è una cosa che mi piace molto. E non camperiamo, dai. Voglio giocare abbastanza all'attacco. Come fa a togliermi i mille? Come? I camper? Io li odio. Con zero gemme e pretendono di rubarle agli altri che hanno fatto. Ok. Ne ho sei. Sono molto contento. Avevo visto che lì c'era uno imboscato prima perché hanno... Ok. Sinceramente siamo in tre. Voglio capire meglio dove siano gli altri. Prima di attaccare. Perché quella Jessie che toglie mille e venticinque mi dà un po' fastidio. Bravo. Bravo Colt. Io ti aspetto. Sì, bella ragazzi. Ho fatto una bella partita. Me la sono giocata molto bene. Procediamo ad un'altra partita. Ok ragazzi. Stiamo entrando in una nuova partita. C'è un Colt che... Anche lui... Anche Colt è un buon... È un buon brawler perché... Se ha un livello adeguato... Anche il grado... È molto buono. Sto cambiando un attimo perché ho un po' paura a dir la verità. Scusate ragazzi se sto un attimo in silenzio ma sono concentrato. L'ho usato un po' malino a dir la verità. La super mossa però... Aiuto. Eh vabbè. Questa è andata così. Ne facciamo un'altra. Un'altra partita. Allora stiamo entrando in una nuova partita. E... E sarà l'ultima questa. E... Voglio portarmela... A casa. Ok. Abbiamo avuto un inizio... Molto... Acceso. Ok. Ha sprecato la sua super mossa però va bene. Sua scelta. Sinceramente... Vorrei iniziare... Vorrei... Camperarla un attimo questa. Lui è molto forte. Io scappo ragazzi. Questo è fortissimo. Ha una super mossa lui. So dov'è però non... Perché anche... Quel brawler lì... È molto forte. Diciamo che... Se sai usarli... Più o meno tutti i brawler sono forti. C'è una shelly con sette. Ok uso la mia super mossa. Beh. È stata molto brava lei però... Sono stato anche abbastanza sfortunato perché è rimasta con... 840 di vita. Allora ragazzi. Io vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. E... Ad un prossimo video. È un prossimo video. Che è str inclined meそして io. Ho sfortunato.